Si chiama In strada con sicurezza ed è il progetto realizzato nel corso dell'anno scolastico 2017-2018 nelle città di Gubbio, città di Castello, Perugia e Todi. Obiettivo rafforzare nei più giovani, in particolare gli studenti dei quarti superiori in procinto di prendere la patente di guida, la consapevolezza dei rischi di mettersi sulla strada e l'importanza di evitarlo quando le condizioni psicofisiche non sono ottimali. Il progetto si chiude mercoledì nel piazzale di Pian di Massiana, Perugia, dove verrà organizzata una giornata per affrontare i temi inerenti alla sicurezza stradale su iniziativa della Polizia Stradale di Bosch Italia. Oggi l'anteprima, Gubbio, di fronte agli istituti superiori Mazzatinti e Cassata Gattapone, con la collaborazione preziosa dell'associazione Elba, ideatrice del progetto Guida la Vita. Quest'anno collaboriamo con l'associazione In strada con sicurezza, i studenti coinvolti sono stati addirittura 1050 e le classi 54. Questa giornata di oggi fa parte del percorso conclusivo che si è avviato l'anno scorso, quindi sono le classi quarte dell'anno scorso che sono le quinte di quest'anno. Oggi saremo a Gubbio con il pulman azzurro della Polizia di Stato, domani a Todi e mercoledì a Perugia. A Perugia contestualmente si svolgerà la cerimonia di premiazione del concorso che si è svolto l'anno scorso, in cui i ragazzi sono stati chiamati a produrre degli elaborati compatibilmente con le loro attitudini, le loro passioni e le loro capacità. È stato comunque un anno molto intenso e i lavori prodotti sono stati veramente di altissimo livello e di altissima qualità. Significative anche le dimostrazioni effettuate dagli agenti di polizia con gli studenti all'interno del pulman azzurro del Corpo di Stato che compie un vero tour della prevenzione tra le scuole, sono state proiettate immagini e testimonianze di chi porta sulla pelle i segni di una bravata propria o altrui al volante quando ha la fortuna di poterlo raccontare. Fuori si sono svolte poi dimostrazioni efficaci anche per far capire ai ragazzi quanto cambi la percezione della realtà quando ad esempio si guida in stato di alterazione da alcol o da droga. In che consiste questa dimostrazione e soprattutto a cosa servono questa maschera che sembra quasi da sci? Allora sono due maschere studiate apposta per la prova dell'alcol test diciamo sono due maschere che simulano la guida e stato di ebrezza alcolica la prima e la seconda ubriachezza. Nel senso sono delle maschere studiate in modo da riprodurre l'effetto proprio dell'assunzione dell'alcol. Nel primo caso è lo stato di ebrezza alcolica e simulano un grado alcolemico diciamo di 1,080. Nel secondo caso questa qui è tre volte superiore quindi siamo intorno all'1,50. In questo caso proprio la persona è completamente ubriaca. Alessandra ha indossato la maschera e purtroppo qualche sabato sera qualche tuo cotaneo non mette la maschera ma magari si trova a guidare in quelle condizioni. Che cosa si percepisce, si vede? Beh già con la prima maschera c'è una percezione più reale ma indossando la seconda addirittura a me sembrava di vedere due strade diverse quindi c'era anche difficoltà a capire quale delle due dover prendere. Quanto è importante per voi, per i ragazzi della tua età, anche mattinate come questa, rendere tutti consapevoli che ci si mette in strada con uno scooter, una bici, con un'auto soprattutto e l'incolumità e la prova ma anche quella degli altri? Beh è molto importante anche perché abbiamo avuto modo di vedere dei video in cui dei ragazzi magari anche della nostra età si ritrovavano in queste situazioni, magari non avevano perso la vita negli incidenti ma comunque si ritrovavano su sedia a rotelle, non è come ci hanno spiegato i poliziotti non è dannoso solo per loro ma anche per chi li circonda quindi prestare magari un po' più di attenzione credo non costi nulla. Il tempo investito nel modo migliore fare prevenzione, anche se noi riuscissimo a salvare una vita o a far sì che un ragazzo guidi in maniera più consapevole, già l'obiettivo anche per una sola persona già ne vale la pena, l'obiettivo già raggiunto.